Ed eccoci al quinto appuntamento del nostro corso di Microsoft Word relativo alle basi del programma su come stampare un documento. Prima di tutto apriamo un documento dalla scheda file, apri, magari un documento recente, ad esempio questo qui, l'ultimo documento aperto, relazione, eccolo qui. Tutte le impostazioni e le regolazioni di stampa sono nella schermata che possiamo trovare cliccando nuovamente sulla scheda file alla voce stampa. Come vedi qui infatti c'è anche l'anteprima di stampa che prima era un comando a parte. Qui in basso puoi scorrere due pagine alla volta l'anteprima del documento, così come verrà stampato. In basso a destra, come sempre, ci sono i comandi dello zoom che ti permettono di ingrandire o diminuire l'anteprima. Nella colonna di sinistra ci sono tutti i tasti che ci permettono di decidere tutto ciò che vogliamo stampare e con quali modalità. attenzione perché trovi il tasto di stampa all'inizio in alto, però prima devi avere chiare tutte le impostazioni di stampa che vuoi settare. Innanzitutto quante copie del documento vuoi stampare e su quale stampante stampare. A questo proposito apro il menu a discesa per farti vedere che Word probabilmente è configurato per poter stampare con diverse stampanti o dispositivi, ma non vuol dire che questi siano collegati fisicamente in questo momento. Sono semplicemente configurazioni che ti dicono che il computer e Word è predisposto per stampare su quei dispositivi per i quali sono stati già caricati i driver, ossia i software che permettono al computer di poter gestire quel dispositivo. Qui troverai addirittura anche delle stampanti software, procedimenti che al momento della stampa creeranno un file anziché stampare fisicamente su carta. Tanto che in fondo abbiamo anche la voce stampa su file che ci permette di creare un file PRN, un file di stampa che può essere poi riaperto e riutilizzato anche su un altro computer, una procedura un po' antica. Qui sotto trovi anche il link per le proprietà della stampante e qui chiaramente a seconda della stampante che hai trovi impostazioni completamente diverse. Anche questo pannello è relativo a una stampante che potrà essere molto diversa da quella che vedi qui, perché ogni stampante a seconda dell'azienda che la costruisce e del modello ha un'interfaccia grafica delle proprietà che è molto diversa. Poi ci sono le impostazioni. Innanzitutto stampa su tutte le pagine l'intero documento, questa è la situazione predefinita, ma possiamo anche fare altre cose molto interessanti. Ad esempio scegliere di stampare solo la pagina corrente, cioè quella in cui in questo momento si trova il cursore, dove si trova cioè il cursore, prima di aver aperto questa scheda di stampa. Oppure stampa personalizzata, dove posso digitare le pagine, sezioni o intervalli specifici e lo vediamo di seguito. Oppure posso stampare addirittura anche le informazioni sul documento. Questo può essere molto utile, come un documento che viene archiviato, immagazzinato, dove puoi appunto stampare elenco di proprietà come nome di file, l'autore, il titolo, il giorno e la data in cui è stato stampato. Oppure stampare contemporaneamente anche i commenti, le revisioni, gli stili. O stampare solo le pagine pari o solo le pagine dispari. Questo per esempio è molto importante nel caso tu voglia stampare fronte-retro, ma la stampante non te lo consenta, il che può capitare. La stampa personalizzata ce l'abbiamo in questa casella qui. Come ci dice Word con questo call-out, è possibile scrivere i numeri di pagina o gli intervalli separati da virgole o da trattino. quindi ad esempio per stampare da pagina 1 a pagina 5, 1 trattino 5. Se invece voglio stampare la pagina 2, è la pagina 7, 2,7. Le altre impostazioni sono stampa su un lato solo o stampa su entrambi i lati, ossia la famosa stampa fronte-retro. Ma questa sarà possibile solo se la tua stampante lo supporta. Altrimenti è possibile scegliere la stampa manuale su entrambi i lati. E sarà Word stesso che ti chiederà quando girare i fogli sulla stampante. Fascicola copie. Fascicola copie entra in ballo solo se stampiamo più copie di un documento. Se stampiamo più copie di un documento, vengono stampate prima tutte le pagine dalla prima all'ultima e poi vengono ristampate per quante copie vogliamo tutte le pagine. Se scegliamo di non fascicolare invece verranno stampate ad esempio due o tre copie della prima pagina, due o tre copie della seconda e così via. Poi ci sono alcune impostazioni che riguardano la pagina del documento, quindi l'impostazione proprio del file. Ad esempio l'orientamento del foglio verticale o orizzontale. In questo caso come vedi dall'anteprima tutti i fogli si dispongono per così dire sul lato lungo. Le dimensioni della pagina, in questo caso siccome sono leggermente diverse dal foglio A4, possiamo reimpostarle sul foglio A4 che è il valore di default predefinito. Poi ci sono i margini, anziché quelli personalizzati come in questo documento ci sono già varie scelte, normale ad esempio l'impostazione predefinita, oppure appunto con i margini personalizzati posso andare a definire precisamente i margini superiore, inferiore, sinistro, destro e tante altre impostazioni che riguardano la stampa. Come vedi alcune ritornano come l'orientamento. Infine una pagina per foglio troviamo. Qui abbiamo la possibilità di adattare il contenuto al foglio. Questo è molto importante perché posso fare in modo ad esempio di stampare due pagine all'interno di un foglio solo o anche più di una per diminuire il numero dei fogli stampati con la nostra stampante. Inoltre possiamo adattare al formato. Quindi zoomare e stampare forzatamente tutto il testo, le immagini del nostro documento all'interno di un formato più grande o più piccolo. In fondo a questa colonna trovi il link imposto a pagina che riapre la finestra generale e che proviene dalle versioni precedenti dove comunque ritroviamo tutte le impostazioni di stampa che abbiamo visto. A questo punto dopo che hai deciso come stampare il tuo documento puoi cliccare sul tasto stampa e far partire la stampante. Nella prossima lezione vedremo come inviare un documento per email invece direttamente da Word.